La data è scelta. Sarà il 4 giugno, il giorno della grande festa organizzata dal comune di Napoli per festeggiare tutti insieme il terzo scudetto azzurro. Ad annunciarlo il sindaco Gaetano Manfredi. Tre ipalchi dislocati in zone differenti della città, uno sul lungomare Caracciolo, uno a Scampia nell'area nord e uno a piazza del Plebiscito dove sembra quasi certa la presenza di Gigi D'Alessio assieme a tanti altri artisti e tifosi del Napoli. Un'organizzazione che è già partita da settimane e che ha visto al tavolo convocato in prefettura il prefetto, il comune, le forze dell'ordine e il calcio Napoli. In città intanto fervono i preparativi, molti quartieri sono già addobbati a festa. Finora il timore di esagerazioni con monumenti e piazze deturpate o graffittate di vernice azzurra o tricolore è scongiurato. Tanti festoni, tanti striscioni e bandiere, ma soprattutto tanta inventiva e passione. Il sindaco Manfredi auspica una festa grande, popolare, che possa dare lustro a tutta la città di Napoli. È chiaro che la festa, da un lato ci sarà ovviamente una festa spontanea, un entusiasmo spontaneo nel quale chiaramente c'è un problema di ordine pubblico, ma c'è anche un problema di responsabilità dei cittadini. Dall'altro c'è questa festa che probabilmente sarà il 4 giugno, che per una scelta che è stata fatta anche da parte mia di coinvolgere tutta la città sarà una festa policentrica, avrà un palco in ogni municipalità oltre al palco centrale. Poi c'è un problema ovviamente di gestione degli spazi e degli accessi che sotto le leggi ovviamente della Prefettura e della Questura noi stiamo lavorando con loro per garantire la massima partecipazione in sicurezza. Quindi questo è il nostro obiettivo e cercheremo di farlo nel miglior modo possibile per tutelare in primo luogo la sicurezza dei cittadini e garantire ovviamente una espressione di gioia che è quella che tutti quanti noi vogliamo.